Sono Elisa e sono responsabile dell'attività commerciale all'interno della mia filiale. Quotidianamente mi occupo di incontrare le aziende che lavorano con ADECCO e le aziende che ancora non ci conoscono, ascoltare i loro bisogni, capire che necessità hanno e costruire con loro le migliori soluzioni nella gestione del personale. Oggi, dopo un percorso di crescita, oltre all'attività commerciale, mi occupo anche della gestione del team e ho la responsabilità dei risultati portati dalla filiale. Dall'altra parte mi occupo di fidelizzare tutte le aziende che lavorano già con ADECCO e quindi di conoscerle ancora più da vicino, ascoltare le loro esigenze e capire con loro se possiamo offrire ancora di più rispetto a quello che già facciamo. Che cosa prevede la mia attività quotidiana? Ovviamente anche una parte di negoziazione, quindi entrare in relazione con il cliente, negoziare con lui, suggerirgli quella che secondo noi è la miglior soluzione al suo problema e realizzare con lui il miglior progetto possibile. Ciao ragazze, buongiorno. Parto io stamattina? Allora, successo della giornata, abbiamo un cliente nuovo in somministrazione e quindi complimenti a tutti per l'ottimo lavoro. L'attività commerciale all'interno del nostro gruppo mi permette di divertirmi tra diverse soluzioni. Oggi ADECCO non è soltanto flessibilità, somministrazione di lavoro, ma è anche ricerche e selezione, consulenza, formazione, la possibilità di offrire tantissime opportunità sia ai nostri candidati che ai nostri clienti. Se la tua ambizione è realizzarti facendo ogni giorno la differenza per gli altri, The Power to Change Lives è l'occasione giusta per te. Inviaci la tua candidatura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.